Fabio, come sarà il mondo dopo? Dipende secondo me da quanto dura questa emergenza e come la affronteranno alcuni paesi rispetto ad altri. Allora, se mi fai scommettere, e non penso che sia una previsione particolarmente difficile, Corea, Taiwan, Singapore, forse Giappone, ne verranno fuori molto più forti. Sì, i paesi, il sistema paesi più forti usciranno più forti. Esatto, quindi sarà una selezione italiana. Germania, Cina, Corea, Saigon, quelli che hanno gestito. Canada, Australia, non lo so, vedremo, questa è sulla base di ciò che conosciamo oggi. I paesi più straccioni saranno ancora più straccioni. Sì, ma la Germania, per fare un esempio più vicino a casa nostra, negli anni di vacche grasse ha risparmiato adesso, di fronte a un'emergenza, ti scarica 500, 600, 700, 800 miliardi. Perché ce li ha? Noi che negli anni di vacche grasse abbiamo dato i soldi a cani e porci, i soldi sono finiti. Poi, Fabio, poi cosa prevedi? Poi bisognerà... Prevedo l'emergere dei governi sulla finanza. Ma questo... Sì, hanno comprato molte imprese, le avranno salvate molte, hanno speso molto, le abbiamo chiamate in ballo, si è vista l'importanza di un buon governo, la differenza tra un buon governo di Singapore e piuttosto che un cattivo governo, chi ha gestito e chi non ha gestito. Quindi avremo riemergere del potere del governo sulla finanza. Sì, sì. Beh, quello già c'è perché con la BCE e tutte le altre banche centrali che entrano pesantemente nei mercati, cioè che diventano il mercato, praticamente qua stiamo parlando di uniri con gli steroidi. Poi prevedo che le imprese tecnologiche diventeranno sempre più forti, perché escono sostanzialmente... totalmente free da questa situazione. Le Google, le Amazon, le Facebook escono con volumi triplicati, escono drammaticamente più forti. E poi le imprese biotech, no? Queste qui che... Biotech. La scienza esce più forte da questo. La scienza esce più forte in un altro settore è la cyber security, che sarà... è un corollario, così è un settore ancillare rispetto alla tecnologia, sarà... Poi prevedo che il mondo sarà molto più online. Esatto. Sì, sì. Adesso dalla casalinga di Moghera, lo studente di Catanzaro, abbiamo tutti imparato che si può fare... Si ha fatto questo sforzo, quindi diminuzione dei viaggi, diminuzione dei face-to-face contact sarà un trend con cui dovremmo avere a che fare in modo importante. Sì, ma anche l'istruzione online, secondo me... Sì, tutto l'online. Tutto l'online. Poi prevedo che il social distancing rimarrà. Questo stress di prendere, non prendere, dei viaggi... Questo fatto qui può darsi che rimanga. Che facciano i... Beh, rimane fino al vaccino, fino a quando trovano il vaccino. Chissà se faranno i cinema quei sedili un po' distaccati. Il cinema con le mascherine in dotazione. Le mascherine dove ti puoi infilare il popcorn senza contagiare gli altri, no? E poi prevedo che sarà un mondo con le supply chain più corte. Quello sicuramente. Sì, sì. Quello... Beh, la Cina, come hai già detto tu, avrà degli impatti negativi perché... Appunto, se scoppia un'epidemia ogni media dieci anni, la gente dice quello è un rischio. Cioè, te lo fanno, te lo mettono nel compito dei rischi, non più dei cigni neri, no? Quello lì diventa un rischio operational. Quindi, chiaramente, non vai più a mettere fabbriche in Cina se... Poi, questa storia è che la gente non produce le mascherine, non produce ventilatori, non può rifornirsi. Tutto questo discorso delle forniture strategiche tipo sanitario, militare, tecnologico, diventano ancora più forti. La necessità di doverle produrre a casa. E questo è vero. Però non è che siano settori fondamentali, ecco. Sì, ma questo implicherà la revisione di tanti altri settori. Possibile, possibile. E poi prevedo che si creeranno grandi agenzie di prevenzione. Come 9-11 fece nascere l'Homelon Security, credo che questo faccia nascere il Disease Prevention, con grandi budget. E anche sistemi, tipo quelli che ci sono a Singapore e in Corea, di tracciamento dei movimenti della popolazione, che può avere poi delle ricadute sulla privacy o, diciamo, di tipo autoritario, che bisognerà monitorare. Lì c'è tutto un discorso che riguarda le libertà individuali, i diritti, la privacy e tutto il resto. Ed è un terreno inesplorato. Potrebbe essere che si origini a processi di maggiore compressione della privacy. Secondo me quello già... Il carattere sanitario. ...correttiziamente è stato fatto. Ma questo già dopo il 9-11, dopo l'attacco alle torri gemelle, la NSA ha cominciato, l'abbiamo visto con Wikileaks, sappiamo che le agenzie di intelligence hanno la capacità di spiare chiunque. Noi in Italia abbiamo dato ai magistrati la possibilità di ficcarti un trojan nel telefonino e quindi diventa qualcosa che ti monitora 24 ore su 24, tutto quello che fai e che dici, non solo sul telefonino, ma tutto quello che tu fai e te lo mettono perché stanno indagando su un'ipotesi di reato. Se poi scoprono che indagando su quell'ipotesi hai commesso o c'è il sospetto che hai fatto qualcos'altro, ti possono incriminare. Quindi il grande fratello di fatto è già qua. Poi come altro lo vedi il mondo? Più autoritario? Ma sai, quello dipenderà un po' da come verrà risolta questa... perché adesso tutti si affidano al governo come l'agente risolutore dei problemi, la popolarità di Conte riflette questo desiderio di paternalismo. però se questa roba poi porta a problemi di disoccupazione, recessione, fame, fallimento a catena, eccetera, eccetera, tu puoi avere una reazione incontrollata dalla popolazione che o va verso una forma di estrema sfiducia nei riguardi delle autorità o nella richiesta di maggiore controllo da parte dell'autorità e quindi un'addetiva più autoritaria. La Cina riuscirà a riscrivere... Sai che la Cina sta provando a riscrivere la storia, no? Ma sai, quello... Lo vediamo tutte le sere in tv pure da noi, più modestamente. Se tu metti un asino in televisione, metà della popolazione comincia a ragliare. Riuscirà la Cina a riscrivere la storia? Ma non credo, dai, è troppo... Non tutti sono gigino, eh, che vedono le mascherine e i due respiratori e si eccitano perché la Cina li ha aiutati, ecco. Penso che sia così ingenue. Per cui, cioè, il fatto che questo virus sia venuto dalla Cina rimarrà nella coscienza collettiva per un bel po' di tempo. Va bene. Fermiamoci con questi dieci punti perché non me ne vengono degli altri. No, ma sai, è un work in progress. Poi magari ne possiamo fare un'altra di puntata su questo punto perché ci verranno in mente altre cose man mano che la situazione evolve. Bene. Grazie Fabio. Grazie a tutti. Grazie.